Ergastolo per il giolese Vincenzo Scudera, 58 anni, lo ha sentenziato ieri la corte d'assise di Caltanissetta preseduta da Mario Amato, l'uomo che si è sempre programmato innocente e è stato ritenuto colpevole dell'omicidio avvenuto nell'aprile del 1987 della moglie Rosaria Palmieri che all'epoca aveva 22 anni. Il corpo non è stato mai trovato. Scudera fu arrestato dai carabinieri di Gela il 18 luglio del 2014 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dalla Procura della Repubblica. Scudera, dopo aver ucciso la coniugia, fece sparire nel nulla il cadavere. Quando la donna scomparve improvvisamente, lasciando un bambino di appena 6 anni, il marito non presentò alcuna denuncia lasciando intendere a parenti ed amici di averla invece presentata. E proprio ai parenti che chiedevano informazioni rispondeva che la moglie era fuggita con un altro uomo mai identificato. Pochi giorni dopo la scomparsa della consorte, Vincenzo Scudera andò a convivere con la giovane cugina della donna che nel febbraio del 1988 lo rese nuovamente padre. E fu proprio la relazione extra-coniugale intrattenuta da Vincenzo Scudera che lo convince ad eliminare la giovane moglie. Furono il figlio della vittima e la sua compagna, avvocato, residenti nelle Marche, a fare riaprire nuovamente le indagini anni addietro successive alle richieste di chiarimenti sulla scomparsa di Rosaria Palmieri volte ad ottenere una dichiarazione di morte presunta per consentire la successione ereditaria dei beni in comunione tra la donna e Scudera. I carabinieri raccorsero numerose testimonianze che permisero di appurare le inconcluenze della versione ufficiale fornita dal marito. Dalle indagini emerse, come dicevamo, che Scudera aveva una relazione con una cugina della moglie dalla quale poi avrebbe avuto un figlio. La relazione fu scoperta casualmente dalla donna, tradita grazie ad una lettera dell'amante arrivata erroneamente a casa e ad una collana trovata nelle tasche del marito che pensava destinata a lei, ma che invece poi vide addosso alla cugina. Decisive furono le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia a conoscenza della vicenda, Marcello Sultano, Rosario Trubia, Liborio Trenito e Calogero Rigio. Scudera è personaggio già noto nel panorama criminale giorese e vicino alla famiglia mafiosa di Riesi. Fu arrestato per l'omicidio di crocifisso Emanuello, avvenuto nel 1988, ma successivamente assolto grazie alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Rosario Trubia, già reggente di Cosa Nostragielese.